Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, poi, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri. Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Manahen, compagno di infanzia di Erode e Tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse, Riservate per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero Seleucia, e di qui salparono per Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Dal Salmo 66 Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù esclamò Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato. Mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico le dico così come il Padre le ha dette a me, la parola che io sono in tempo. Questa è la parola che il Padre le ha dette a me. La parola che io dico è la parola che me lo faccia il caso, tutti i cose sono in am le faccia il fatto che dura